Le aziende partecipate sono dei cittadini e i veronesi devono sapere qual è la loro situazione effettiva. A parlare sono i segretari generali di CGL Cisle Will, quelli delle federazioni di categoria e le rappresentanze sindacali unitari e dei lavoratori. Al centro le realtà delle partecipate AMIA e AGSM. La prima si occupa della raccolta rifiuti e gestione della pulizia delle aree pubbliche e del verde urbano. AGSM produce e distribuisce energia elettrica e gas. I sindacati sottolineano che i lavoratori sono in difficoltà per la mancanza di dialogo e di direttive chiare delle dirigenze. Seguiamo in questo momento difficile che per il secondo anno ha un bilancio negativo e AMIA per sollevarlo ha trovato varie scamotage tra cui quello di spostare 15 persone tra AMIA e AGSM. Secondo noi invece va ricercato il problema alla radice che è un problema di costi delle lavorazioni che vanno rivisti e vanno rivisti gli introiti per quella manutenzione del verde, per quello che sono i servizi dati e comuni a costi di mercato e non sotto costo. Noi siamo qui oggi perché abbiamo la necessità di avere da AGSM ma anche da AMIA e da tutte le altre aziende partecipate una disponibilità, un confronto su quello che è il piano industriale. Perché sono aziende che danno un servizio pubblico e quindi c'è la necessità che siano gestite nel miglior dei modi possibili confrontandosi col sindacato anche per i riflessi ovvi che hanno sui lavoratori e le loro scelte. La richiesta è quella di un incontro quanto prima con il sindaco e le dirigenze delle partecipate per poter discutere sul piano aziendale anche in vista dell'aggregazione con la Vicentina AIM. I sindacati sono disposti ad azioni pubbliche di sensibilizzazione di stampa e cittadini. La necessità di avviare col sindaco di Verona e con le aziende un percorso negoziale che riguarda sia la situazione più generale di AMIA sia il fatto che oggi a Verona non si sa più niente dell'aggregazione fra Verona e Vicenza in termini di aziende. Secondo il fatto che il sindaco pare che voglia snobbare i lavoratori attraverso un invito poi andato a vuoto ci fa capire che molto probabilmente noi dovremmo mettere in campo altre iniziative per farci sentire.